Ormai da mesi terrorizza la cittadinanza e il nome della giustizia e la gente è esasperata. Alcuni lo definiscono addirittura un terrorista, ma il suo conflitto corrisponde a quello che è un terrorista. Non è del tutto chiaro, non è collegato ad alcun movimento politico e i suoi bersagli sono proprio i criminali. Tuttavia, la polizia afferma che il suo compito è catturarlo, non classificarlo. Il resto spetterà al sistema giudiziario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.